Quanti di voi hanno giocato a Five Nights at Freddy's Security Breach? Ebbene, lo domando anzitutto ai player più appassionati e poi a tutti gli altri che mi seguono. È sufficiente un numero cospicuo di easter eggs, qualche jumpscare e pupazzi giganti progettati dalla Creature Shop di Jim Henson per farvi apprezzare Five Nights at Freddy's di Emma Tummy? Che porta sul grande schermo in live action quegli stessi animatronics assassini? Essenzialmente, la trama piuttosto elementare del film ruota intorno a Mike, il Josh Hutcherson di Hunger Games, un guardiano di notte, appena assunto al Freddy Fazbear's Pizza, un ristorante di famiglia chiuso da almeno un decennio. Tuttavia, la sua prima notte di lavoro si rivela tutt'altro che una passeggiata, quando si trova ad affrontare le quattro gigantesche mascotte animatroniche del locale, ossia Freddy Fazbear's, Bonnie, Chica e Foxy, che prendono vita ogni notte e uccidono chiunque si trovi nei dintorni. A questo punto, ai fan di Nicolas Cage verrà subito in mente l'eccentrico Willis Wonderland del 2021, e ve lo suggerisco nel caso non l'abbiate ancora guardato. Il ristorante abbandonato, un guardiano notturno con seri problemi comportamentali, un passato problematico e maligni pupazzi killer che prendono vita? Il concept di sicuro lo richiama, ma non aspettatevi nulla di simile in Five Nights at Freddy's. Se infatti si può pure soprassedere sulla trama elementare e a tratti priva di senso, non c'è, certo a salvarlo, uno stralunato Nicolas Cage e nemmeno una dose di sana violenza e gore. Anzi, l'horror di Emma Tummy ha ben poco horror in assoluto. Tanto che è stato classificato con rassicurante PG-13, ossia adatto a tutti. A parte qualche salto sulla sedia e blande note d'atmosfera relegate alle sole due location in cui si sviluppa l'azione, ossia la casa di Mike e il ristorante, Five Nights at Freddy's si presenta allora come una mera operazione di marketing targata a Blumhouse, per rilanciare i relativi videogiochi, che poco si preoccupa di rendere interessanti i suoi protagonisti e la sua storia, che nemmeno riesce a divertire chi era in cerca di sensazioni forti. Insomma, un veicolo di promozione destinato a un pubblico di giovanissimi, possibilmente già conoscitori del videogame, che quasi sicuramente scontenterà un po' tutti. Fatemi sapere che cosa ne pensate quando l'avrete guardato e seguiteci anche per le nostre recensioni scritte su www.ilcineocchio.it e sui nostri canali social. Ciao a tutti! Ciao a tutti!